Siamo qui con Valerio Edoardo, meglio conosciuto come Sespo, una delle coppie più famose e acclamate di YouTube del momento e dal web, soprattutto per l'immenso successo che ha avuto il vostro libro Il Valespo, che possiamo considerare come una sorta di autobiografia conversata. Nel libro definite il vostro rapporto come un mix tra amore e amicizia. Hanno in qualche modo la vostra famiglia e soprattutto le vostre fidanzate ostacolato il vostro legame? No, per niente, zero. Anzi, mia madre fino alla fine sperava che mi fidanzassi con Valerio. No, 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 serio no. No, mai. Nelle ragazze e nella famiglia. Ok. Il vostro successo è soprattutto determinato dalle migliaia di followers che avete sui social e su YouTube. Ha tutto questo successo? Ha in qualche modo determinato la vostra vita o ve l'ha cambiata? Ovviamente, tantissimo. Ce l'ha proprio cambiata da così a così. Dovamo andare da una parte e siamo andati da un'altra. Cioè, a me non era pianificato, per esempio, andare a vivere da solo a 18 anni, trasferirmi con gli amici miei a Milano, non fare l'università. Cioè, tutto questo non era pianificato, ovviamente. però è successo, cioè. Ok, grazie mille, ragazzi.